Quando mi guardi, non so di te, è il segno di un'estate che vorrei, 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 vorrei potesse no. Finire mai. Che è sta nuove. Stava parlando di estate, che è la canzone del cantante. Scalda un po' la mia. Però non c'è così freddo, perciò se dovete venire in centro non abbiate paura. No, venite, venite perché credetemi è una bellissima serata. Sì. Ascolta, stanno arrivando veramente tanti messaggi, tra l'altro sta passando quel messaggio che vedo del presidente Antonio Speranzi. Sì, brava. Dobbiamo dire, ricordare questa associazione culturale del premio internazionale duchessa Lucrezia Borgia, grande signora di Ferrara, che insomma seguono sulla loro pagina Facebook, pensate da Bisceglie, la diretta del capodanno a Ferrara, questa sorta di gemellaggio, no? Con la Puglia. Di Sceglie, appunto, e siccome ci sono tra l'altro di Negramaro, facciamo proprio, quindi auguri naturalmente a tutti gli amici che ci stanno seguendo su questa pagina Facebook dell'associazione, dicevamo, culturale del premio internazionale duchessa Lucrezia Borgia e salutiamo il presidente Antonio Speranza. Questo per dire che ci stanno seguendo ovunque, anche, credeteci, fuori dall'Italia, perché ci sono tantissimi ferraresi che sono in giro per il mondo, però sono collegati con noi per vedere almeno qualche minuto della Puglia del loro.